Un esperto in tecniche di guerriglia, con i fucili, con i coltelli, e amane nude anche. Rambo era il migliore. Sono finalmente tornato a casa. Zio John! Dove avrei difeso fino alla fine l'unica famiglia che abbia mai avuto. Devi proprio volerla, quella ragazza. Non potranno fare niente per fermarmi. Devo riportarla a casa. Tu hai iniziato. Io la finirò. Io ti farò a pezzi. Ecco che cosa si prova. Grazie a tutti.